Dalla Cambogia agli Stati Uniti, dal Sud America al Medio Oriente, passando per Nord Africa, Russia e ovviamente tutta Europa, l'azienda Mixon SRL di Torjano ha nell'ultimo decennio realizzato i suoi impianti in quasi ogni angolo del globo. Questa importante realtà imprenditoriale Umbra, che dal 2010 opera nel settore della progettazione e produzione di impianti di betonaggio industriale, è riuscita ad affermarsi a livello internazionale grazie a un costante lavoro di ricerca e innovazione e a un'avanzata elasticità applicata a tutti i processi aziendali. Per tutti questi motivi la Mixon SRL è stata selezionata dall'associazione di categoria Confim Industria Umbria quale azienda del mese. I nostri clienti sono aziende che producono elementi prefabbricati, travi per infrastrutture stradali o capannoni o comunque tutto quello che riguarda lo sviluppo delle infrastrutture di un paese, come ad esempio porti, aeroporti, acquedotti, gallerie, autostrade e quant'altro. Va da sé che normalmente i paesi che investono più in questo tipo di infrastrutture sono tutti quei paesi che ad oggi si trovano in via di sviluppo o comunque che devono terminare una fase di sviluppo che è ancora non completa. La Mixon appunto lavora sul settore degli impianti di betonaggio industriali con un approccio totalmente volto a un target di qualità medio alto per confrontarci con i brand leader del mercato. Lavora molto su prodotti customizzati, tagliati appositamente per le necessità del cliente finale e per questo sta ottenendo grandi risultati, forse tante volte anche insperati. Questa capacità di proporre soluzioni sempre all'avanguardia e personalizzate in base alle esigenze del cliente, anche nel tempo, è insomma la base della crescita e del successo dell'azienda torgianese Mixon. Noi realizziamo qui internamente tutti i nostri software, sia la parte di automazione come dicevo che di interfaccia uomo-macchina. Li testiamo sempre qui nei nostri uffici mediante dei simulatori affinché garantiamo che effettivamente poi tutti i cicli in automatico vengono eseguiti correttamente. Quindi una volta che la macchina è stata installata e collegata il nostro lavoro diciamo quello di andare a collaudare direttamente presso i nostri clienti. Le nostre macchine chiaramente partono per fare una cosa, però sono investimenti che durano 20-30 anni e quindi nel corso dei successivi anni devono anche cambiare e adattarsi alle nuove tecnologie e a quello che ci chiederanno i nostri clienti. Noi realizziamo! Noi realizziamo! Noi realizziamo! Noi realizziamo! Noi realizziamo!